VINI CONTRA Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Roller289 Non so perché è cambiato la mia intro Va bene Comunque ragazzi oggi come avete letto dal titolo Siamo nello speciale 1000 iscritti Infatti oggi in live siamo arrivati a 1000 e 3 Adesso siamo 1000 infatti anche in live siamo 1000 Livecount.net siamo 1000 precisi Quindi di sicuro stanotte qualcuno si disiscriverà Però vabbè dettagli Allora ragazzi come avete letto dal titolo E come avete letto dalla copertina Perché c'è anche scritto la copertina Vi dirò tutta la mia storia su Youtube I miei scopi, tutte le cose, quello che succederà al mio canale Un po' tutto Sarà un video un po' lungo In confronto agli altri Diciamo E niente Io spero che vi piaccia È una cosa un po' semplice Però vabbè Cioè va bene come piccolo speciale Infatti 1000 iscritti Onesto Allora ragazzi Prima di iniziare con il video Veramente vi ringrazio tutti Mille grazie per tutti questi iscritti ragazzi Mille iscritti E poi il bello che ce li siamo fatti senza fare iscritto ricambi Gli ultimi 200 ragazzi Gli ultimi 200 sono senza iscritto ricambi Quindi mi piace ancora di più come cosa Niente ragazzi Poi ho notato che questo qui Questo video La mia nuova postazione da gaming È arrivato a più di 800 views Con 47 like Grazie mille Il video con più like di tutto il canale E niente ragazzi Adesso vi dirò un po' La mia storia del canale Però come ho già detto Come faccio ogni volta Prima di iniziare ogni video Vi invito a seguirmi su Instagram Roller289-YT Seguirmi su Whatsapp Potete trovare il link del mio gruppo Whatsapp Qua sotto in descrizione Basta che lo cliccate Ed entrate direttamente nel gruppo Whatsapp Lo potete fare dal telefono E niente ragazzi Io direi che possiamo iniziare con il video Allora ragazzi La mia storia del canale Roller289 Ragazzi È da dire subito una cosa Il mio canale è iniziato Non con Roller289 Ma è iniziato con Rollercoaster Mania Adesso vi faccio vedere Siamo in meno recenti Che bella connessione Grazie mille Fastweb Due anni fa Allora questo canale è stato creato Informazioni 12 agosto 2016 12 agosto 2016 è stato creato Rollercoaster Mania Che era il mio canale Che era questo qua In Rollercoaster Mania Cioè dovevo pubblicare solo video Di parchi divertimento Tutte queste cose E poi mi sono dato anche il gaming E altre cose Poi si è trasformato In Rollercoaster The Gamer Che è durato praticamente niente Meno di un mese E poi in Roller289 Quello che tutti oggi noi conosciamo Adesso ragazzi Mi farò un mini tour Un po' Del mio canale Di tutte le cose Allora qua subito Possiamo trovare tutti questi video Di parchi divertimento Perché come ho detto Era un video Era un canale dedicato A tutti i parchi divertimento Che tra l'altro Facevano anche views Perché questo qua 4250 460 130 Comunque Andava bene Poi Mi sono dato il gaming Mi sono dato il gaming Ragazzi Ho iniziato a registrare I video della PS3 Di GTA Qualcosa su Minecraft Un po' di cose Un po' di cose in generale Come vedete E poi Un anno fa Un anno e mezzo fa Preciso Ho comprato la PS4 E da lì ragazzi È iniziato veramente Il Roller289 Che conosciamo tutti oggi Perché ragazzi Da lì ho iniziato a fare live Video Tutte queste cose ragazzi Tutte queste cose Infatti come potete vedere Qua ho iniziato a fare live su GTA Ragazzi Perché sì Una volta faccio solo live su GTA Ho creato il mio trailer del canale Tutte le cose Live tattiche Fino ad arrivare A mille iscritti A cento iscritti ragazzi Cento iscritti Per me è stato il mio primo traguardo Diciamo decisivo Che ha creato veramente qualcosa Perché per me Dieci iscritti Sì dai Cento iscritti Erano veramente tanti E Niente Ho raggiunto il cento iscritti Dopo di quello Ho iniziato con Minecraft Ragazzi L'avevo promesso Ho iniziato con Minecraft Ho iniziato la mia serie di Minecraft Survival Unboxing di Minecraft Tattica Però non ho smesso su GTA Ancora Non l'avevo ancora smesso Vedete Avevo aperto anche il mio canale Telegram Tutte queste cose Minecraft Minigames Era iniziata anche quella serie Poi avevo fatto una reaction Non mi ricordo neanche il perché Tutto con Minecraft e GTA Finché Alla fine Non ho preso Il mio primo PC da gaming La mia nuova postazione Era gaming Quel video che vi stavo dicendo prima Da lì Praticamente Ho smesso Totalmente Con GTA Ragazzi Ho smesso Non funzionava Ormai era un gioco che mi annoiava Tuttora Ci gioco Però Ci gioco per cazzeggiare Insomma Non sono mai serio Comunque Con Minecraft Ancora un po' Continuato Ho iniziato a fare live da PC Che non funzionano Perché ringrazio sempre la Fastweb Che mi dà una buona connessione Adesso ragazzi Forse ho scoperto un metodo Per farle funzionare E live da PC Vedremo Vedremo Speriamo Ho iniziato a fare live su Clash Royale Durate anche quelli lì pochissimo Poi ho preso la scheda grafica Sono riuscito ad aggiungere il counter E niente Tutte ste cose Finché ragazzi Lì inizia veramente il roller 289 Ho iniziato Fortnite ragazzi Eccolo qua Il mio primo video All'improvviso Fortnite Hashtag 1 Pensavo che sarebbe andato malissimo Perché Fortnite Io gioco dalla season 1 Ho registrato questo video Che era la season 2 Era andato praticamente Cioè In senso Fortnite non era famoso E quindi l'ho detto Facciavolo a caso Poi ho visto che vi è piaciuto Quindi ho continuato Fino ad arrivare poi Il roller 289 Di Fortnite Ho comprato le cuffie E dopo tutti Questi sacrifici Sono arrivato A ben 500 iscritti Ho fatto uno speciale Dove Facevo vedere un po' La mia stanza Vi invito ad andarlo a vedere Facevo vedere la mia stanza Anche la postazione Comunque devo fare un Un secondo video Della postazione da gaming Perché si sono aggiunte Molte cose L'impianto Dolby Atmos Subwoofer Microfono Playstation Tantissime cose Poi ve lo farò vedere Non vi preoccupate Live di Fortnite Ho iniziato a fare quelle Ho anche creato la mia intro Del canale E da lì È iniziato il mio vero canale Ragazzi Perché ho fatto rispondere Le vostre chiamate Vloghi a Movieland Tutti i video Che comunque facciano Molte visualizzazioni Ragazzi Molte visualizzazioni Live Poi Ho smesso Devo essere sincero Dopo Ecco Dopo Questo video Dove Ecco Shop il nuovo Pass Battaglia Questo qua Ho smesso Per due mesi Ragazzi Per due mesetti In effetti sono stato inattivo Poi Di colpo Così mi è venuta voglia Ho iniziato a fare i video Tranquillamente Ho iniziato a fare i video Poi Ho trovato un nuovo metodo 5 euro Give away ragazzi Video Live Che mi ha portato A 24 spettatori fissi Una volta Funziona Io veramente Li do sempre I 5 euro E Funziona Funziona Perché comunque Mi ha regalato tante views Tante like Iscrizioni Tutte queste Ultime iscrizioni Cioè veramente In questo mese Ci siamo fatti 250 iscritti In questo mese C'è qualcosa di incredibile E poi Semplicemente Ho pubblicato altre cose Tattiche Fino ad arrivare Oggi ragazzi Oggi 5 gennaio 2019 Tra l'altro 100 views Arriviamo a 1000 iscritti Live ragazzi Siamo arrivati A 1000 iscritti Ecco qua 1000 iscritti Ragazzi Oggigiorno 5 gennaio 2019 Tra l'altro Il giorno In cui Mattiz È arrivato A 300.000 iscritti Io ragazzi Sono arrivato A 1000 iscritti 1000 Fottutissimi Iscritti Adesso ragazzi La storia del mio canale È finita Vi dico ancora Altre cose Che succederanno Nel mio canale Forse Ho fatto richiesta A Epic Games Per diventare Un creatore Di Fortnite Credo che me L'accetteranno Perché sono arrivato A 1000 iscritti Entro il tempo Che mi avevano Prefissato Insomma E cosa vuol dire questo Che potrete andare Nello shop Mettere il codice Che vi dirò io Poi E potrete supportarmi Come creatore Ragazzi Potrete supportarmi Come creatore Acquistando Delle cose Nello shop Che a voi Non mi costa niente A me magari Mi arriva qualcosina A voi non mi costa niente Tanto Quando volete shoppare Decidete tutto voi Poi altre cose Forse Riuscirò ad attivare La super chat Vedrò Le storie su YouTube Comunque Da 1000 iscritti Si possono già fare Delle cose serie Ragazzi Si possono fare veramente Delle cose serie Ragazzi Però ragazzi Il video finisce qua Io spero che vi sia piaciuto Speciale 1000 iscritti Era una cosa un po' semplice Però Vabbè Dai Comunque Vabbè Non è che È una cosa brutta Tra l'altro Guardate una cosa 21.897 Persone diverse Che hanno visto I miei video Fantastico Comunque ragazzi Vi invito ad iscrivervi Lasciare like Condividere Attivate la campanella Delle notifiche Seguitemi su Instagram Su Telegram Non più Perché non ci sono Quindi seguitemi Su Whatsapp Trovate il link In descrizione Come ho detto prima Basta che Schiacciate il link E aprite subito Il mio Gruppo Whatsapp Insomma Se volete donarmi Il link Paypal Qua sotto In descrizione Ma come ho detto Forse riuscirò Ad attivare La super chat E niente ragazzi Dopo avervi detto questo Io vi mando Veramente Mille grazie Perché veramente Mille iscritti Non mi sarei mai aspettati Quando ho aperto il canale Vi ringrazio ancora Tra l'altro Non so perché Prima segnava 100 views Adesso è 97 Vabbè Misteri di Youtube Niente ragazzi Ci vediamo ad un mio prossimo video Ciao ciao